Alessandro Farci. Purtroppo 58. Sono di Genoa in Sardegna, problemi innanzitutto masticazione. Già iniziavo a masticare male anche se esteticamente non erano ancora male e quindi ho pensato che tanto prima o poi dovevo fare questo lavoro. Il mio percorso è quando ho deciso di… diciamo che ho guardato i video su Facebook. Il lavoro mi sono trovato benissimo, nel senso che già dal… insomma, essendo comunque la prima volta, mi sono convinto subito, appena vi ho visto, mi sono trovato già subito bene. Il mio chirurgo è il mio impiantista, molto, molto bravi, molto disponibili, molto simpatici anche, oltre all'assistente, molto, molto, molto brava, professionale, come tutti del resto.